un saluto agli amici del coreatello sport.it e bentornati sul nostro sito allora eh è già disponibile su Rai Play eh la piattaforma in streaming della Rai eh le dodici puntate di questa nuova serie che si chiama Liberi Tutti dai produttori di di Boris e a presentarla qui oggi i nostri creditissimi ospiti due grandi ritorni Giorgio Di Rabbassi bentornato al coreatello sport e Valeria Bilello anche lei di ritorno qui nei nostri studi allora 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 parliamo un po' di questa serie allora sono dodici puntate di trenta minuti l'una più o meno quindi anche molto gradevole è una commenta cioè è divertente comunque però c'è alla base anche un insomma ci sono vari temi da affrontare allora chi mi racconta dove fino a dove si può arrivare così poi mi baso su quello per poi fare le domande. Tu dici senza spoilerare fino a dove possiamo arrivare? Esatto beh possiamo dire possiamo dire tutto partiamo dalla fine allora ma guarda racconta la storia di Michele Venturi che è l'avvocato che interpreto io che che è uno abbastanza abile quindi ha costruito un discreto patrimonio vive in una casa che sembra che la del Berlusconi sembra il palazzo Grazioli e però viene viene scoperto con 25 milioni in in macchina lui riesce con con la sua abilità ottenere dei domiciliari però siccome gli hanno sequestrato i beni di proprietà è costretto a scontare la detenzione insomma nella residenza dell'ex moglie che nel frattempo vive in una comune. Esatto che è una coabitazione appunto sul modello solidale e ecosostenibile tutti i principi e valori molto lontani da questo avvocato losco quindi dovrà poi adattarsi lui per poter sopravvivere. Devo fare buon viso al cattivo gioco perché se no torno in carcere quindi e loro vivono a parte una grandissima disponibilità verso gli altri una cura maniacale del corpo quindi fanno i cibi, bevono acqua e aceto, fanno delle cose. Hanno il loro orto, tutto ecosostenibile, tutto a chilometro zero, fanno delle assemblee continue per stabilire cose giuste e cose sbagliate quindi viene catapultato in questa realtà molto distante da lui. In una di queste riunioni dove io partecipo diciamo sempre un po' così un giorno posso fare un intervento e dicono accidenti come no certo possiamo abolire queste assemblee dopo dieci minuti avevamo già capito tutto facciamo una chat sul telefonino e invece mi ignorano completamente e continuano nella insomma. Quindi ci vogliono 12 episodi perché diciamo dalla sua prima, primissimo ostilità poi diventi addirittura un collaboratore attivo e cercherà poi appunto Michele di salvare insieme a tutti gli altri le sorti del nido. Sì perché all'inizio lo vedono come insomma un pessimo esempio perché ovviamente rappresenta tutto il male di questa comunità e poi invece alla fine a metà della serie questa comune questi co-housing hanno un problema burocratico e decidono di chiedere aiuto a questo avvocato. Quindi diciamo che l'avvocato che tu interpreti è un personaggio ovviamente cinico che ama vivere nel lusso che è pronto a tutto pur di arrivare a raggiungere l'obiettivo senza problemi e si ritrova in una realtà completamente differente da lui. L'accetta soltanto perché l'alternativa è la galera e quindi dice meglio stare qui che stare in carcere. Infatti la cosa è costruita come come dicevi tu hai detto i produttori di Boris in realtà sono gli autori. Autori. Sì vabbè ma insomma l'abbiamo capito era comodo e loro sono in questo molto 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 bravi a costruire proprio il contrasto del meccanismo comico che è proprio nel contrasto tra appunto questo questo aspetto cinico e questo idealistico del coausio. Però a lungo andare la convivenza in questo nel nido in questa in questa casa porta anche il tuo personaggio un po' a cambiare giusto? Soprattutto nel rapporto con la figlia perché diciamolo anche che il tuo personaggio ha una figlia di 16 anni. Sì. Che ha vissuto sempre lì. Sì ha una figlia e un'ex moglie. Che di fatti il nido è dell'ex moglie. Eh beh io sono nella residenza della mia ex moglie che mi ospita lì poi c'è anche lei che è una delle 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 e cerco di ricostruire un po' questo rapporto con mia figlia che è praticamente inesistente insomma. Invece. Che è la bravissima Ludovica Martino mentre l'ex moglie Anita Caprioli. Perfetta bravo. No poi c'è anche poi poi facciamo i nomi degli attori. Certo perché ci sono degli attori bravissimi. Poi ci li dimentichiamo se no. C'è Thomas Strabacchi. Sì c'è Giordano De Plano, Rosanna Gentili, Ugo Dighiero, Caterina Guzzanti e il bravissimo Lino Musella. Bravo stavo per dire Lino Musella è fantastico fa un personaggio straordinario. Allora invece Valeria il tuo è un personaggio un po' ovviamente diverso direi abbastanza diverso ma è il miglior amico dell'ex moglie. Anche se guarda potremmo quasi invertire i personaggi l'anno prossimo potrei fare io Michele e tu Nicoletta. Certo che sono diversi, molto diversi. Molto diversi. Sei la migliore amica dell'ex moglie tra l'altro giusto di Michele? E fondatrice insieme ad altri. Amalarte, è una gallerista e raccontato il resto se no poi dico tutto io. E insieme agli altri ovviamente si occupa di quelle che sono le sorti di questo co-housing ed è sempre molto impegnata a combattere queste battaglie comuni e inizialmente avrà anche lei grandi dubbi su questa figura losca di questo avvocato Michele. Dopodiché nascerà una bellissima tenera amicizia fra i due, lo aiuterà, diventerà anche sua complice in piccole cose, cercherà di farlo integrare il più velocemente possibile all'interno di questa comunità. Si creerà anche una sorta di conteso con un altro personaggio che è quello di Rosanna Gentili, bravissima che fa Iolde per cui appunto lei si innamorerà di Michele ma invece io e lui avremo una piccola storia d'amore e lei cercherà di disturbare questa cosa, di portarselo a sé. Ci sono dei momenti più esilaranti. anche un romanticone. No, io no, non sono un romanticone per niente. Per niente. Nel suo approccio è completamente sbagliato diciamo. Beh, ma io credo che ci sia con la mia ex moglie una scena più romantica. Comunque io aiuterò lei a fare una mostra nel... A un certo punto verso la fine della serie c'è una mostra d'arte per anche appunto per cercare di salvare il nido viene inscenata questa cosa ed è un episodio molto divertente dove chiederò una mano anche a Michele ed è molto molto bello perché lo vedi in balia di questi artisti strampalati che con delle richieste che avanzano richieste improbabili. È molto divertente. La serie è divertente va vista tutta ad un fiato per fortuna esiste questa piattaforma che ci consente di vederle tutte e 12 durano 30 minuti quindi sono 6 ore di roba divise in 3 ore spieghi il telefono mangi il lavoro. Ma c'è già un sacco di gente che se la sta guardando tutta ad un fiato o spezzata in due comunque nel primo weekend mi hanno scritto in tantissime persone. Sì, sì. Allora, in questa serie però ci sono altri due personaggi che sono personaggi importanti che sono i due intercettatori. È certo. Giusto? Che succede? Che Michele non lo sa ma dentro questo co-housing lui viene spiato. Giusto? Addirittura capiremo che lui viene mandato quasi apposta lì cioè organizzano in maniera tale che lui può fare i domiciliari e gli arresti domiciliari soltanto lì perché lì è possibile intercettarlo. Allora ci stanno questi due poliziotti che sono Luca Morosino e Carlo De Ruggeri che sono due figure storiche di Boris quindi sicuramente chi vedrà la serie riconoscerà tanti attori che hanno partecipato a Boris e quindi niente c'è questa linea pseudo gialla che accompagna la serie questa investigazione. Poi ci sono appunto sono divisi molto bene questi due ruoli degli intercettatori uno sarà pro Michele l'altro contro Michele uno verrà addirittura a infiltrarsi all'interno del nido a nostra totale insaputa dicendo delle cose sotto voce i personaggi quasi diventasse regista per quell'episodio quindi vengono completamente coinvolti anche nelle situazioni nelle dinamiche sì e partecipano molto partecipano sì partecipano poi uno ha un problema sentimentale si è lasciato con la moglie quindi partecipa voi quanto ne sapevate di questo fenomeno del co-housing che è nato in Nord Europa insomma che sta apprendendo insomma che è molto interessante voi lo conoscevate già? cioè eravate beh sì forse abbiamo letto abbiamo sentito parlare però forse così direttamente no perché adesso si chiama co-housing una volta sa si chiama in altri modi adesso si chiama co-housing però questa moda dell'inglesismo a tutti i costi no? beh perché non è una comune non è proprio una comune non è proprio la stessa identica cosa il co-housing evidentemente è altro no? sì è vero però ricorda un po' la comune degli anni 70 i primi esperimenti pure c'è quelli vabbè a parte Cristiania a Copenaghen no? in Danimarca ma anche in in Svizzera c'era il Monte Verità ai primi del Novecento dove dove tutti anarchici intellettuali artisti si erano riuniti scrivevano la carta dell'uomo mi pare quella è la prima cosa a parte l'omini primitivi che è i caverne ma quello diciamo è un altro discorso però ricordiamo anche che questa serie andrà anche su Rai 2 comunque assolutamente sì per chi vuole vederla in televisione andrà su Rai 2 l'anno prossimo nel 2020 non diciamo quando ancora non è sicuro non c'è una data precisa non dicono a febbraio febbraio non vi conviene però c'è Rai Play assolutamente a proposito di Rai Play adesso è un po' sulla bocca di tutti insomma Fiorello ha rilanciato questo già c'era prima Rai Play esiste da un bel po' diciamo però con Fiorello c'è stato di nuovo questo questo ha dato un po' da traino e oramai il futuro è questo il modo di fruire la televisione ma questo è il presente non è il futuro è il presente beh è stato lanciato Netflix fuori dall'Italia forse anche un po' il passato sì ma è di bravo non volevo amareggiarmi troppo però forse sì ma è così ma già allora Rai Play aveva metteva a disposizione come ha fatto qualche tempo fa l'Istituto Lucio mettendo tutto il materiale su YouTube è un patrimonio esatto e quello che c'è su Rai Play è fantastico si trovano delle cose sì un archivio un archivio bellissimo penso che Rai Play abbia addirittura forse più contenuti rispetto a Netflix o giù di lì perché comunque tutto appunto tutto il patrimonio Rai c'è un'intervista a Edoardo che è magnifica delle interviste a Pasolini che qualcosa abbiamo già visto ma c'è c'è veramente un archivio bellissimo si possono vedere le vecchie serie quella che dicevamo noi del segno del comando delle cose per i nostalgici così come si può vedere il varietà degli anni 70 del grande Antonello Falqui si può vedere tutto ma è proprio una finestra sull'Italia è un modo per capire anche da dove veniamo ci stanno le cose che faceva Sergio Zavoli Nanni Loi che andava in giro per l'Italia e vedeva credo anche quel bellissimo documentario di Pasolini che si chiama Comizio d'amore è lui che va in giro per l'Italia a cercare di capire qual era il pensiero degli italiani sulle abitudini sessuali e è molto molto interessante insomma mi pare di aver capito che tu guardi parecchio Replay giustamente parecchio no però so che c'è questa roba poi soprattutto se vuoi vedere una cosa che ti sei persa la settimana prima vai lì e lo vedi ecco questo credo che sia questo il modo di vedere la televisione assolutamente ma voi due siete comunque anche dei frutturi di cinema no? perché si parla molto di queste nuove piattaforme che potrebbero rosicchiare spettatori al cinema invece c'è anche chi dice che non è così perché in realtà è soltanto un modo diverso di vedere uno stesso prodotto sai che questa sta diventando una questione che ci portiamo avanti oramai da un po' voi come la vedete? cioè voi comunque al cinema ci andare sempre assolutamente sì e non mi sembra per esempio che nell'ultimo film di Scorsese abbia tolto nulla il fatto poi di essere disponibile poco dopo su Netflix io non sono riuscita a trovare un posto per settimane anzi a volte diventa una forza in più un traino maggiore un supporto maggiore ma anche in altri casi in cui alcuni film sono stati prima distribuiti in sala e poi subito dopo promessi a Netflix o altre piattaforme in ogni caso quelli che non hanno questo tipo di supporto e di promessa io penso che quelli che meritano di essere visti sono sempre visti seguiti e hanno il loro pubblico i loro biglietti paganti quindi non credo perché ero sentito io non l'ho capita però certo non è educativo per chi ama il cinema in sala il cinema visto in sala è un po' come il Kindle la lettura sì sì si può fare però voglio dire il cinema è un'altra cosa la sala condividere soprattutto se vedi una commedia sentire le risate io andavo a vedere i film quelli classici o sordi Manfredi e era un effetto entusiasmante sentire una sala piena che ride o il mutismo di una sala perché è concentrata la sala cioè vedere insieme una cosa è un altro paio di maniche poi è chiaro che magari a casa abbiamo un televisore enorme un home video però diciamo la sala io la amo un po' di più il cinema è sicuramente un'altra cosa però ricordiamoci che ci sono anche dei film molto belli d'autore che magari stanno fuori purtroppo per dinamiche di cinema di produttori e di esercenti stanno fuori solo una settimana e poi vengono ritirati che per fortuna poi finiscono su Netflix e vengono riorizzati ma poi infatti il futuro dei film poi alla fine è quello assolutamente lì lo vedi lì sottolineiamo anche l'importanza per gli attori di avere un altro strumento per poter comunque lavorare nel senso che Netflix lancia spesso anche nuovi attori attori emergenti producono sì esatto che magari nelle commedie che si vedono al cinema magari questa cosa non succederebbe diciamo da più possibilità più piattaforme ci sono e ovviamente meglio è come lavoro per tutti ma c'è anche più scelta anche perché chi ha soltanto Sky ha soltanto un certo tipo di scelta mentre invece Amazon Netflix Rayplay Rayplay infatti il nostro Liberi Tutti avrà due vite sicuramente avrà questa su Rayplay e dopodiché avrà quella televisiva e quindi anche un pubblico completamente diverso è una cosa bella in attesa i libri tutti e due dove vi invertirete quindi dovevi scambere due volte esatto Nicoletto e mi farò crescere i capelli e mi ondi faccio l'operazione al naso e ci siamo ci siamo siamo lì le antigini sono quelle lei si mette la protesi va bene vi avresto io mi farò crescere i capelli